Oggi ti porto con me alla Quacheta dove è presente una delle cascate più grandi e belle dell'Emilia Romagna Partendo da San Benedetto in Alpe abbiamo seguito un sentiero tracciato del Cai all'interno delle foreste casentinesi Durante il cammino ci siamo fermati più volte a bordo torrente per rinfrescarci e mangiare fra una cascata e l'Alpe E dopo due ore di tragitto ci siamo ritrovati davanti a quella più grande e famosa del complesso Con un salto di ben 90 metri, 700 anni fa, è stata citata da Dante all'interno della Divina Commedia